salve a tutti Alessandro Mariani e benvenuti in questo nuovo video oggi effettueremo la recensione di NGM Forward Evolve essenzialmente per sapere che si tratta di uno smartphone dual sim come spesso NGM propone di media fascia per portarsi questo device a casa basta infatti circa 200 euro 200 euro li vale lo scopriamo insieme andiamo subito a vedere l'hardware vediamo il lato destro che presenta solamente il pulsante di power e sblocco blocco come potete apprezzare dalla videocamera lato sinistro invece abbiamo essenzialmente il tasto volume su volume giù sotto troviamo il microfono principale e basta e sopra infine abbiamo il jack per il cuffio da 3.5 e la porta micro usb per caricare il nostro device e scambiare dati con il pc andiamo a vedere subito la scocca come si rimuove basta inserire un dito oppure un oggetto appuntito sopra appunto nell'incavo presente la batteria andiamo ad analizzarla è da 1800 mAh per ora che dura circa 370 ore in standby arriva diciamo a quasi pomeriggi in oltrato non fa la giornata come potete apprezzare qui troviamo gli slot per le due sim questa volta impostate sul formato standard e lo slot per la micro sd facciamo attenzione a rimettere la scocca al proprio posto in una maniera corretta pressiamo bene con le dita finché non sentiamo una serie di clac che ci indicheranno che la scocca è stata montata correttamente altrimenti se non la montiamo correttamente il nostro telefono subirà dei danni quali inserimento di oggetti esterni andiamo ad accenderlo parliamo intanto di dimensioni dimensioni abbiamo un display tft da 5 pollici in diagonali avente risoluzione 540 per 960 punti la cosa apprezzabile che è stato montato un gorilla glass 2 davvero molto resistente agli urti e alle cadute per quanto riguarda altezza parliamo di 138 per 70 uno spessore di 7,5 mm il peso complessivo di 139 grammi davvero leggero questo device andiamo adesso a effettuare l'accesso con le sim eccoci qua non è corretto il pin non so perché vediamo sblocco sim ecco scusate avevo sbagliato a metterlo intanto qui come potete apprezzare le sim sono state riconosciute per quanto riguarda invece il processore abbiamo un quad core media tech da 1.3 gigahertz è stato pensato per chi non gioca molto perché con la batteria da 1800 mAh il telefono se lo mandiamo sotto sforzo dura meno che una giornata la versione android abbiamo nativamente una 4.2.2 jelly bean come possiamo verificare probabilmente non sarà giornata perché comunque è un device di media fascia e i tempi potrebbero essere lunghi per quanto riguarda le reti abbiamo reti omts gsm quad band con connessione 3g dinamico che cosa vuol dire vuol dire che possiamo passare la nostra connessione da una sim all'altra e quindi scegliere su quale connessione impostare i nostri dati la ricezione è abbastanza buona proviamo vedete qua adesso c'è sempre la scelta di quale sim appunto connettere dicevo la ricezione è buona possiamo vedere adesso di fare una chiamata scegliamo in questo caso la prima sim impostiamo viva voce e sentiamo come è l'audio altoparlante sistema che è posto dietro altoparlante non troppo potenti ma comunque di buona qualità e spesso quello è quello che conta adesso come potete apprezzare proviamo a scrivere un messaggio qui c'è installata la versione swift key che è davvero davvero molto comoda con microfono e in più sono state aggiunte delle emoticons personalizzate da ngm che sono davvero comode se siete giovani o se comunque vi piace utilizzare questo genere di messaggistica memoria da 4 giga interne spandibili con micro sd fino a 32 giga un giga di ram che fa ci permette installare le applicazioni che vogliamo adesso parliamo di fotocamera abbiamo una fotocamera posteriore da 8 megapixel che ci permette di scattare foto in buona risoluzione e girare video fino a 720p con 30 film per secondo adesso proviamo a effettuare una foto sulla scatola di ngm ecco qua adesso andiamo a vederla le foto non sono bellissime da per per avere comunque una fotocamera da 8 megapixel vedete qua che c'è generato parecchio rumore mi aspettavo qualcosa di più perché nel complesso mi sembrava una buona fotocamera ma in realtà è discreta non buona ma discreta fotocamera anteriore invece da 0.3 megapixel anche qui è un po scarsa diciamo che la parte fotocamera multimediale non è delle migliori vediamo adesso invece la navigazione browser che è il punto forte di questo device andiamo sul nostro sito a vedere qualche articolo come vedete super rapido anche se siamo in copertura wifi non fibra e quindi un pochettino lenta adesso schiacciamo vedete che ha già caricato e a differenza di altri devices che già testati da noi che ci mettevano comunque anche delle volte un minuto qui siamo già a buon punto possiamo leggere qualsiasi genere di articolo quindi se volete abbonarvi a un quotidiano piuttosto che una rivista questo device è consigliato perché comunque il display è luminoso e il bianco è bianco il nero è nero quindi vuol dire che le tonalità sono quelle non sono altre e come potete apprezzare gli articoli si leggono bene poi ovviamente potete anche pinciare se non ci vedete abbastanza per quanto riguarda la musica adesso effettuiamo un ulteriore test dell'altoparlante mettendolo sotto sforzo con una nostra canzone alziamo l'audio sentite audio discreto non potentissimo così come il display che rende i colori precisi ma non purtroppo non definiti in alta definizione come potete apprezzare questo è il la silhouette del nostro ngm forward evolve ecco qua scusate mi è addirittura caduto tanto abbiamo il gorilla glass che dire un giudizio dunque per 199 euro troviamo in giro sicuramente di meglio questo perché la batteria non dura molto il display non è molto definito e appunto per questi soldi secondo me vale la pena spenderli per qualche altro dispositivo le note positive invece sono che comunque abbiamo un display ampio da 5 pollici la navigazione browser è sicuramente la migliore nel campo di questa fascia intorno a 200 euro per chi è adatto è adatto per un pubblico giovanile perché comunque abbiamo sempre emoticons e multimedialità a disposizione però non per chi chatta molto per chi usa molto il telefono perché rischieremo appunto in pomeriggio in primo pomeriggio di trovarci senza batteria ovviamente abbiamo la garanzia ngm che ormai è un marchio che in italia si è affermato da qualche anno e quindi se volete provarlo perché no qui vi ricordo che di seguirci nei vari focus dedicati a ngm forward evolve di guardare appunto le nostre foto e i video realizzati con questo dispositivo l'unboxing che cosa presenta con la nostra confezione e in più se volete sapere qualche dettaglio in più guardate la galleria fotografica e vedrete particolari che magari da qui non siete riusciti a notare ma soprattutto seguitici nei canali social sotto elencati perché è sempre importante e poi se avete domande potete chiederci pure qui è tutto da Alessandro Mariani un saluto e da formobiles.info